ben ritrovati da luca dal negozio passatempo abbiamo fatto passare un po di tempo prima di ritornare a finalmente la pandemia è finita vabbè adesso abbiamo l'ultima rottura questa della guerra che ci sta facendo oscillare i prezzi l'inflazione arrivato il momento di bloccare i soldi quindi o vi comprate delle belle case o vi comprate qualche orologio qualche prezioso quando dell'oro delle valute estere però bloccate i soldi perché la cosa migliore da fare in questo momento io vi faccio vedere quello che vi posso offrire per farvi bloccare un pochino l'inflazione poi guardatevi intorno e trovate mille modi per fermare il valore del vostro denaro mi dai un topolino per favore un grazie un paio di rolex ancora questo qua in questo momento è un rolex date l'automatico di casa rolex con un quadrante mickey mouse o topolino ormai sono orologi modaioli molto 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 ricercati mentre prima si faceva meno fatica adesso si fa più fatica a trovarli e quando ce li ho ve li faccio vedere ma obiettivamente sono rimasto anche ultimamente a secco più di una volta mentre prima ne avevo tanti adesso è un momento particolare ed è un momento particolare che vi consiglio anche di darvi da fare comprare qualcosa e mettervelo via perché bloccate il prezzo cioè in questo modo vi comprate qualcosa ve lo tenete avete visto che poi alla fine vanno sempre salendo questo tipo di orologi quindi anche adesso che poi c'è stata la bolla ed è scoppiata la bolla sono scesi i prezzi che ne sarete accorti io lo dicevo già da prima che i prezzi sarebbero scesi e che quando mi chiedevate tanti moderni tanti orologi nuove in produzione dicevo io non ve li vendo perché non ci credo perché non è possibile che un orologio che ne costava 13 14 di listino veniva venduta 45 48 50 quindi quella era una cosa che veramente poi per carità e magari fra 20 anni li varrà veramente 50 perché tutti i daytona tutti i rolex ogni anno hanno un aumento e sono sempre orologi che salgono da sempre io i primi daytona i primi paul newman che ho venduto li pagavo 2 milioni e 4 li vendeva 3 milioni di lire e parliamo della fine degli anni 80 cioè non stiamo parlando di un'altra vita e da lì hanno continuato a salire il paul newman è arrivato a 150 200 mila e tutti quegli orologi hanno preso quei valori quindi piano piano li prenderanno tutti però non puoi comprare un orologio che in negozio ne costa 13 e lo paghi 50 non sei normale te l'ho detto mille volte quando venivate me li chiedevate me li chiedevano anche gli amici dicevo io non te li procuro vai da vai da ti mandavo anche ma non te li davo se compri degli oggetti che comunque avevano un listino che era magari anche basso ma adesso l'equivalente di un rolex dayjust lo vai a comprare nuovo ti costa 8 e 5 10 e 5 parliamoci chiaro e lo paghi 6 mila allora c'ha un senso ma se ti vai a comprare l'ultimo dayjust che ne costava 8 e 5 lo pagavi 12 non eri normale neanche lì non puoi andare a comprare gli orologi che in negozio ne costano e tu qualsiasi orologio lo pagavi più del listino era una scelta lo facevano anche con le ferrari una volta si è fatto in mille modi però c'era anche sugli orologi c'è stato c'erano il mille euro in più perché volevi la novità e la pagavi sul sul nuovo submarin che usciva sul nuovo ma non c'è mai stata una cosa come è successa adesso questa bolla è finita è saltata poi per carità gli orologi continueranno a salire perché quello che oggi è 8 mila di listino gennaio prossimo sarà a 8 mila e 4 perché ci sarà quel 5 per cento di aumento che trascinerà tutto l'usato che trascinerà tutto il giochino come ha sempre fatto i submarin costavano 3 milioni e mezzo i daytona costavano 3 milioni e mezzo questi qua zenith questi orologi qua costavano 18 mila euro in quegli anni cerchiamo di capirci poi chiaro che adesso salgono però ti vai a comprare il quadrante cioè l'orologio con la meccanica zenith che hanno smesso di produrre negli anni 2000 2001 ti vai a comprare quelli che incominciano ad avere i loro 15 anni 16 anni cioè dipende cosa compri fallo con parsimonia fallo con intelligenza e ti metti via delle belle cose e ti crei un tesoro perché comunque quegli oggetti te li sei presi te li sei messi via aspetti un attimo e l'hai visto cioè salgono sempre sai quanta gente mi chiama io ho comprato un precision due anni fa io ho comprato un precision due anni fa l'avevo pagato 1800 quanto mi può dare e ti do di più adesso li vendo a 35 e sono passati due anni e mezzo tre questo è quello che succede su degli orologi normali poi alla fine chiaro non ti vengo a dare 3000 su ogni orologio noi spendiamo un minimo 500 euro solo per metterlo in ordine cerca di capire ma ti do di più di quante spese lo stesso torniamo giù rivediamoli un attimo e partiamo con rolex dei just sempre d'epoca questo degli anni 70 pensate tenuto benissimo con una richiesta di 6.000 questo visto dicendo un acciai oro adesso quanto costa di just costa 12 13 tu ne paghi uno d'epoca 6.000 stai su queste cose qui non rischi di buttare via i soldi qui fai degli acquisti intelligenti questo per esempio è un date di nuova generazione vedete con nuovo nuova chiusura sono quelli più freschi questo è un orologio che paghi 6.500 ed è un orologio del 2010 però questi qua con i quadranti colorati adesso si arrivano a pagare 15 16 dei prezzi assurdi questi sono i precision che vi dicevo il topolino precision oggi costa 3500 euro e ce ne ho uno cioè prima ne avevo dieci alla volta adesso non li trovi più neanche il problema è questo eccolo qua 35 poi dire dire di passare su i ledi ne facciamo vedere un paio e poi cambiamo marca allora rolex lady noro questo pensate questo è un rolex lady noro il 26 mm con un quadrante verde perché sono quelli che più piacciono quindi un quadrante che è stato rifatto verde è questo perché la gente li vuole così oggi però questo è un orologio che ha una richiesta ed è tutto in oro di 6.500 euro ed è tenuto in queste condizioni cioè quando un orologio ti rimane su così vuol dire che un orologio che come nuovo questo è un orologio vediamo se ce l'hanno l'anno non c'è scritto ma comunque siamo siamo sicuramente negli anni 70 80 cioè di anni ne ha ma è un orologio che non ha mai camminato vedete come nuovo è tenuto in mania cioè in maniera esemplare e siamo di fronte a un orologio che c'è ai suoi 20 30 anni come minimo ma di più di più ne ha tenuto benissimo con una richiesta di 6.500 euro che quanto costa un orologio d'acciaio della rolex uno dei di quelli normali oggi loro continuo a dirvelo loro e da comprare fa bene di vedere un attimo quei due dei just che ti ho dato perché li voglio farvi vedere perché passato un po di tempo lì dentro c'è uno quadrante blu e uno quadrante champagne se ce l'hai portata di mano nel frattempo vi faccio vedere anche un ma eccolo qua grazie perché quando ti propongo a 6.000 euro un dei just acciaio oro e poi vi propongo un rolex dei just in oro eccolo qua rolex dei just in oro a 8.000 euro questo non si può sentire oggi 8.000 euro un dei just testa in oro d'epoca strepitoso 6.500 questo vi facciamo rivedere brevemente 6.500 un lady in oro tenuto quando ve li propongo ve li propongo belli veri precisi una 3.500 va bene e qui siamo su un date a 6.500 un dei just acciaio oro a 6.000 e un date topolino a 5.000 cioè la roba in acciaio 5.000 al date che se fosse un dei just ne costa 6 come l'acciaio oro e ne costa 6 che è un pelomeno degli 8 dell'oro l'oro oggi è da comprare ricordatevelo perché gli orologi rolex in oro oggi sono da comprare ok ve li tolgo fermiamoci sull'otto di testata un secondo solo che lo facciamo rivedere perché ne va la pena questo vi stavo dicendo poc'anzi che è un orologio del 2008 la meccanica è rolex il quadrante è in pietra dura si chiama rubilite e diamanti la sua richiesta è di 70.000 ed è un 116.519 di referenza questo è uno di quegli orologi che è destinato a salire veramente tanto e ve ne renderete conto ricordatevelo che oggi ve l'ho offerto ne riparliamo fra due anni voi siete testimoni che mi state riprendendo 70 oggi vediamo fra due anni quanto costa e vi dico anche la verità non mi chiamate neanche per chiedermelo perché sicuramente quando mi chiamerete non ci sarà già più ricordatevi che per noi è un piacere ricevervi venite a trovarci venite a vedere abbiamo la fortuna che qua le cose entrano ed escono velocemente e quindi ve ne faremo vedere sempre tante e più di quante pensiate che possiamo far bene vedere sinceramente vi ringrazio per tutta l'attenzione ci vediamo a breve nelle prossime settimane un saluto da Luca un saluto dall'equipe di Passatempo e un arrivederci a presto ciao